Crea la tua aiuola, questa mattina Isernia all'ultima fase del progetto voluto dalla Prefettura al fine di sensibilizzare le giovani generazioni verso le tematiche del riciclo e della salvaguardia ambientale. Vediamo. Crea la tua aiuola, una iniziativa per incrementare la pratica del compostaggio domestico per trasformare i rifiuti organici e gli scarti verdi in concime naturale. Il compost è il progetto realizzato a Isernia, fortemente voluto dalla Prefettura che ha visto la partecipazione di amministrazione comunale, cooperativa LAE, lavoro anch'io ed azienda che, in quella realtà, gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti. Stamane, nella villa comunale, la fase conclusiva del piano che si propone di contribuire a far comprendere ai giovani l'importanza delle buone pratiche, nello specifico del riciclo. Il tutto per ridurre la quantità di rifiuti che poi finiranno nelle discariche e nella più complessiva ottica della salvaguardia ambientale. Oggi, all'interno della villa comunale, i ragazzi hanno portato delle cassettine di legno dove noi abbiamo proprio dato un kit didattico con il terreno, con il compost da loro prodotto e pianteranno quindi queste piantine per formare una bellissima aiuola. È stato molto importante questo percorso a livello di sensibilizzazione e comunicazione come le altre attività che stiamo svolgendo, proprio per insegnare loro che il compostaggio non è solamente un processo di riciclo ma anche una trasformazione, una trasformazione di materie prime in materie prime e seconde molto importante per il suolo e per il terreno. Il centro socioeducativo della cooperativa LAI ha continuato nel lavoro del laboratorio orto botanico e il ruolo preciso è quello di costruire e realizzare due piccoli orti botanici nelle due scuole primarie di San Lazzaro, cosa che è stata fatta all'inizio del mese di maggio e abbiamo realizzato questi due orti e che si vedrà la conclusione come questa manifestazione la faremo a settembre presso le scuole perché è quello il momento in cui le produzioni saranno più colorate. Noi crediamo fermamente nel riciclo di tutti i materiali che vengono attualmente scartati e siamo sicuri che solo coinvolgendo con dei progetti di educazione ambientale le giovani generazioni potremo contribuire a creare un mondo migliore un mondo libero dai rifiuti che attualmente ci sommergono. Devo dire che sono stato veramente sorpreso dell'entusiasmo che hanno dimostrato sia gli alunni che gli insegnanti dei due istituti scolastici Giovanni XXIII e San Giovanni Bosco quindi sono convinto che se questi ragazzi continueranno a applicarsi con l'entusiasmo che hanno dimostrato in questo progetto sicuramente potranno assicurare a se stessi e agli altri un mondo migliore.